stanno succedendo cose sul mio computer! COSE! signori signori benvenuto a un nuovo video, io sono Emiglio e oggi finalmente siamo tornati su fortnite! allora raga vi dico subito questo il video che andrete a vedere adesso è un estratto della live di quattro ore che ho fatto qualche settimana fa il problema è questo io ho una connessione del cavolo quindi per fare le dirette stream in 720 e devo usare un bitrate bassissimo quindi quando sono andato a prendere la diretta si fa un po schifo di qualità un pochettino è un po tanto però raga è stata una bellissima partita quindi ve la volevo far vedere e niente vi lascio un video e agli insulti perché mira che schifo che schifo di qualità che bello la connessione bellissima faccio quello che fa leopoldo faccio quello che mi dà io vaffa a te puoi dirlo dove avevo messo su in casa in caso io arrivo su passatempo ce n'è uno no? ce n'è uno in piscina si è entrato in casa sotto la casa sta entrando in casa allora c'è una casa grossa nella nostra casa no c'è un cecchino c'è assurdo dov'è? ma non avevo dobbiamo io sono inizio dov'è? un cecchino non è a terra c'è questo? oh! cos'è? delle pietre occhio che stanno tirando oh! delle pietre oh che si spara uno che l'ho tirato sotto è un bastardo di merda e viene a casa con me no ma siete bravi solo voi qua è là in fondo 170 ce n'è uno 170? si 170 che è quello che stavo tirando prima occhio Luke certo certo pianto tre ce n'è tre dove sono? ragazzi 150 qua 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 Luke vieni ok una terra ce ne sono due vieni ok un'altra terra vieni a rimare per favore ok morti ok troviamo dai ho fatto anche la missione non mi ha dato la seconda uccisione ragazzi siete sicuri che non siano due squadre sono lo shield qua sono lo shieldino ragazzi ragazzi non c'è un lama non vi preoccupate no no ce n'è solo uno vieni chi è che deve fare la missione del lama l'avete già fatta tutti ok ora lo voglio vieni qua dai vai ripassiamo il piano allora andiamo andiamo qua c'è una tre casse oh c'era qualcuno va ragazzi qua noi c'è un beniamato avete il meglio che il mio ragazzi abbiamo andiamo qua più o meno oh mi ha rotto il cazzo in questa granata andiamo andiamo qua vai sali Dave ti va come sei bello Dave manchia sei figo andiamo più o meno sì qua andiamo in safe buona sostanza e perché non li vuole usare li lancia e perché non è mica buono di usarli e quindi li lancia lo siamo messi in testa è spiccato è spiccato scendo con la macchina lì che guido io porca puttana ma fate guidare qualcun altro sta guidando io Dave lo lasciamo lì non mi ha cagato Dave complimenti ti lascia a piedi sti bene ragazzi c'è un lama dove? guardalo dove Luke? è là in cima 219 sulla montagna schermi sveglio ok adesso il più è come è cazzo Luke mi passi a prendere si andiamo hai l'apprenditura portatile? ma perché ti devi ribaltare? io? raga venite più in safe per favore e e e e e è andato a lootare cosa? è andato a lootare piano? è andato a lootare piano? eh va bene va bene io comunque devo rifare tutto il loot Dave non mi rimaste niente è successo il mondo è successo ma ha piantato la pigiana col kart che ha fatto un casino della madonna eh appunto figlio ma è canovio io spero che canovio sia il primo a morire vai eh io sono dietro che botta che mi ha dato ma ci due è un'altra che botta è la in cima 147 75 uno a terra dai andiamo sparate 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 oh ok eliminati eliminati ragazzi vabbè bello prendi il kart andiamo andiamo in safe raga venite in safe venite in safe andiamo a piedi io mi metto invisibile e vado qui alla casa merda dove? merda è qua da me ma dove siete? se li ho dietro se li ho dietro se li ho dietro ragazzi merda dove sono? dietro di me 17 parlato madonna dai fate cosa fuori per favore ok ok terminale facciamo falò anche dai così ci facciamo il falò quel pompa lì prendetevelo raga mini mi lasci quelle dell'assalto mi raccomando non lasciatemi niente e non rassatemi neanche con dieci shieldini ma però vieni devi tirar su gli hook eh prima di prendere la roba sono qua io c'ho un pompa bianca e una mitraglietta bianca allora venite qua venite qua raga venite qua mini munizioni dell'assalto io ho solo l'assalto di arma io ne ho 36 però non ho di assalto eh no ce l'ho un pompa prendilo te gli hook però c'ho solo il pompa e si piega assalto c'è questi due slot liberi chi l'ha fatto sta cosa? chi l'ha fatta? va lui gli ho fatta il mio zio cani hook mi hai disbattuto qua oh ragazzi dovete stare cari mi hai disbattuto qua davvero ma davvero mi hai disbattuto qua vai layer drop fai la base sta sparando ok ci sono volato giù raga avete materiali non avete un cazzo di materiali mi dai tipo un po' di legna qualcosa vieni sto ok grazie saliamo ancora ragazzi c'è l'ho io c'è l'ho io chi li vuole no no c'è l'ho c'è l'ho che non sei ok beh servirebbe io c'ho l'rpg ragazzi se mi fate uscire di qua stanno sparando ragazzi comunque devo devo farci un po' di materiale perché sennò così che cazzo fate? chi che cos'è? perché dove è qua è qua ragazzi è qua ok tanto in due no sono in più di due secondo me una terra una terra altro 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 dov'è? oh qua qua dove? ok bello raga andiamo restatemi restatemi andate andate da bini andate da bini mi faccio vieni dentro copritto vi ok è bello avete band no sono uscite due band due band ciao eric benvenuto sono in due sono in due se la perdiamo sta qua pianto una madonna che viene giù la live dove sono? sono a 142 ragazzi in basso dietro i pini 142 visto sono qua dietro i due pini beh stai calo ce ne ho una ce ne ho una fanno schifo ok manca uno vabbè oh no dov'è? oh no è un shot è un shot è un shot mazzatelo ciao sparate sparate grande vai 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 soffa miglia soffalo 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 eh 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 sorry man sorry man scusate bella bestemmia ma Dave me l'ha fatta tirare fuori oh ragazzi Dave mi ha detto voglio ad ammazzarlo ma ma non morirei poi e niente ragazzi concludo con questo video spero ovviamente che vi sia piaciuto fatemi sapere che è stato nei commenti cosa ne pensate se volete non ve li porto altri strati di live perché la qualità è veramente merdosa quindi piuttosto faccio il video però questa partita ve la volevo far vedere quindi come al solito vi ricordo iscrivetevi al canale lasciate un commento un mi piace iscrivetevi anche alla pagina facebook e instagram tutti i valenti stati in descrizione noi signori ci vediamo alla prossima ciao